buongiorno a tutti e benvenuti a questa sessione di qui club tutta dedicata a domoz in particolare l'argomento di oggi sarà ed è titolato domoz l'estrema utilità delle pubbliche ipi ma che cosa vogliamo fare oggi sostanzialmente lo strumento il nostro strumento domoz al fine di permettere voi msp le attività che vanno assolutamente oltre a quanto imposto dai paletti della sua web gui mette a vostra disposizione ea disposizione anche ai vostri clienti alla fine la possibilità di accesso diretto alle ipi ea tutti i dati inventariali presenti all'interno dello strumento attraverso questa sessione di cui club vedremo insieme alcuni esempi di integrazione delle piai premettendo che io non sono uno sviluppatore che comunque ne sono certo qualora qualcuno di voi lo fosse vi stuzzicherà per mettere in pratica delle idee di integrazione dello strumento che va magari verso un altro livello ora qui con voi francesco sorzini signor tech support engineer di akab sono pronto a illustrarvi un po di particolari e per partire col piede giusto non vado ad aprire una presentazione powerpoint ma il mio fido notas not pad plus plus le piai di domoz che domoz mette a disposizione sono e innanzitutto da attivare vi vado a passare in chat in ogni caso questo file di testo ve lo passerò in tutta tranquillità insieme alla copia della registrazione vi arriverà sicuramente dai miei colleghi vado a fare un bel copi e un past all'interno della chat ditemi se vi arriva posso supporre di sì in ogni caso scrivetemi a un'ultima cosa prima di andare effettivamente sul vivo se vi vengono in mente delle domande particolari anche durante diciamo la la sessione eh durante la quale non mi fermerò eh fatemele perché alla fine del giro eh ci sarà appunto una sessione questione nasa grazie Claudio grazie Danilo per per la conferma della ricezione del link vado avanti allora quindi questo link aperto direttamente sul nostro fido browser web ci porta a quella che è la descrizione del onboarding quindi la creazione effettiva delle eh API in quel di domoz ma chi in domoz può eseguire la creazione di API eh in domoz è il team leader quindi la prima utenza che vi è stata data in mano che ha la possibilità di farlo nel nostro caso io qua la già aperta la domoz pro eh desktop app eh il mio team leader è Sistemi e TACAP.it allora aperto l'app o aperta la web app la cosa dovete fare è entrare sul pannello di configurazione account spostatevi direttamente in sezione domoz API e fate un bel click sulla freccina si aprirà la pagina di configurazione delle API key io me ne sono già preparate un paio ne ho una legata all'integrazione con allo PSI e ho anche un'altra API che mi sono creato eh espressamente ieri per l'erogazione di questo qui quindi io la mia chiave API l'ho già creata ma vi faccio vedere come si crea facile in realtà basta fare un click su create API key qua vi richiederà di inserire la vostra password e scusatemi ma è più lunga di quella che sto inserendo arrivo subito perché ovviamente l'ho cambiata nel delta di tempo arrivo eh ve lo chiede diciamo questo questa parte di credenziale questa password ve la chiede perché comunque l'API vi permettono di eseguire tante tantissime cose eh all'interno dei sistemi anche di scrivere informazioni eh ricordatevi anche di questa nota eh principalmente il dialogo con l'API eh avverrà eh in sola lettura però ci sono alcuni dei pezzi delle funzioni che esposte da eh dalle API che permettono anche la la l'interazione con quello che sta dall'altro lato col database qua eh o la cancellazione di righi di righi API key friendly name qua potete inserire eh un week lab test nel mio caso poi voi potrete far quello che vorrete clic su create verrà generato un API key e un endpoint eh e un API name qua un bel done nel mio caso questa API key la vado a cancellare subito perché l'avete spudoratamente vista tutti anche qui visto che l'API key ha una certa importanza richiede la conferma per l'eliminazione per il resto dell'attività utilizzerò API quick lab che è già configurata sugli strumenti vi vorrò far vedere ora una volta che voi avete le vostre API dovete ben sapere che l'API call eh totali eh in domots sono limitate non si possono fare mille mila chiamate se avete preso bene appunti eh durante la creazione dello strumento vi sarete accorti che comunque eh strumento API intendo l'API key endpoint tendenzialmente è sempre questo quindi vanno comunque salvaguardate tutte le informazioni che in fase di creazione vi vengono date in pasto ora abbassiamo un attimo questa finestra e ritorniamo al giro dell'API e alla descrizione che io ho messo qua su questo bel file di testo le API sono ben visibili all'interno della sezione eh preposta ci arrivo eh e si può trovare la lista degli strumenti API messi a disposizione direttamente su un portale specifico che è questo portaldomos.com developer perché per l'appunto è uno strumento che principalmente servirà ai eh agli sviluppatori ora inserisco anche questo link in chat qui dovrebbe arrivare ma diciamo che ha un'importanza transitoria qui ci sono tutte le varie descrizioni con tanto di esempi per le messe in per la messa in pratica in opera degli degli strumenti domos test segnala che per praticità di eh di uso o per eh eseguire delle attività ripetitive si può utilizzare magari anche un tool terzo non necessariamente eh righe di codice in python ok e per fare dei test per fare dei giochi per fare quello che effettivamente sarà il nostro gioco odierno lato mio eh ho deciso di utilizzare lo strumento postman che si può andare a scaricare direttamente da questo link anche questo link ve lo vado a incollare in chat ora postman per la configurazione vi richiederà di andare a eh importare una lista appunto di API il link che abbiamo visto prima che qua evidenziato dovrà semplicemente essere arricchito delle voci meta slash open trattino API trattino definition ce lo copiamo spuduratamente io il mio postman l'ho già aperto ho già eh eseguito accesso con il mio account eh la stessa cosa potete fra voi è in versione gratuita per eh diciamo delle cose basilari eh poi è un bello strumento se volete poi acquistarlo non lo rivendiamo noi ma perché no io sono qua in collection in collection semplicemente c'è la possibilità di introdurre nuove collection a new collection si può fare una bella other quest e introdurre scusatemi eh tutto l'indirizzo qui dentro ah scusatemi sto facendo un macello collection import perdonatemi inserite in import tutto l'indirizzo che eh vi ho fatto visualizzare qua quello che effettivamente sarà parte di quello che domos vi restituirà sarete quasi tutti eh anzi ci potrei quasi mettere a mano sul fuoco su e west uno eh c'è uno eh così non fosse palese dovrete mettere i vostri dati seguiti da meta open API definition io intanto questo ve lo copio spudoratamente all'interno della chat ripeto il giro eh ragazzi perché ho fatto confusione all'inizio collection import qua si può impostare il tutto inserendo un bel past di quello che ho appena inserito come vedete già lui sa che da questo riferimento può tirare fuori tutto quello che gli occorre un bel clic su import e domos pubbliche pubbliche API copy verrà riportato tutto quello che voi vedete esposto qua in lista descrittiva vi verrà portato comunque in pancia dello strumento Postman basta questo no vi serve anche integrare eh la vostra API key come si fa cliccate eh sulla voce dello strumento appena importato clic sui tre pallini un bel edit authorization e qui dove c'è parentesi eh graffa parentesi qua eh graffa API key chiusura parentesi graffe andate a inserire l'API key che vi è stata fornita durante la fase appunto di creazione siete tendenzialmente a posto io ovviamente andrò a utilizzare l'API key eh che ho creato ieri che ho già legato ad Amos Public API che è qua sopra quindi questo elemento qua posso anche lasciarlo perdere e passare a quello di nostro interesse allora questo strumento mi permette di andare a eseguire eh varie attività di diverse tipologie eh di intervento e adesso faccio un click su run collection perché perché non voglio esplorare io i contenuti e li faccio esplorare a lui vedete che qua abbiamo varie funzioni che possiamo mettere in pratica abbiamo i get abbiamo i post abbiamo anche dei del e dei put c'è la possibilità quindi di interagire con elementi che sta altro lato si può eseguire tranquillamente una ricerca tra quelle che sono le funzioni qua presentate ad esempio potrei avere la necessità e mi sposto in sezione agent ma ci vado perché so già dove andare di andare a scartabellare la lista degli agents quelli che abbiamo attualmente in funzione io sono andato a fare un click su get return the agent list qui ho la possibilità di andare semplicemente visto che le mie api key il base url sono già presenti e fare un click su send e in response otterrò ma no scusatemi diciamo che non è non è quello che intendevo far comparire allora ritorni di agent list qua mi doveva comparire la lista del degli agent ma temo di essere andato nel posto sbagliato eccolo usatemi list page number string togliamo team name siamo send a ok adesso funzionato e perché perché il team name è unico e quindi non aveva un senso che che vi fosse quella informazione io qua posso ottenere tutte le informazioni che sono utili diciamo per andare a ottenere le info del dei miei tenant di quelli che sono i miei clienti quello che a me interessa andare ottenere in realtà è l'unico che in questo momento è attivo sul nostro tenant di test tra scusatemi degli agent attivi tra i nostri nel nostro tenant di test che ha un identificativo ben particolare e vado proprio prenderne nota allora faccio un bel copia ora è palese che quando andrete a mettere giù un qualche cosa che permetterà un interfacciamento potrete fare in modo che una ricerca avvenga proprio per questo particolare di che poi potrà essere utilizzato da altri strumenti di get noi abbiamo agent id possiamo accedere in lista devices e in questo caso possiamo andare a vedere con il get return all the devices of an agent che cosa mi viene presentato io l'avevo già pre compilato in realtà presentato a livello di lista di dispositivi se vado a inserire un agenti vive velio equivalente a quello di diciamo di quello del relativo alla sede di a camina clic su send e ottengo la lista di tutti i miei dispositivi posso scartabellare il tutto e ottenere le informazioni che mi occorrono perché no vado magari a cercare anche un srv ubuntu va benissimo e l'identificativo di un dispositivo particolare perché perché non ho tutti i dettagli qua dentro andiamo in giù ancora di uno step device id get return the detail of device qui avrò a disposizione come campi inseribili per la ricerca sia il valore dell'agent id e del device id volendo si potrebbero anche rendere questi dati come variabili selezionabili ma questo poco conta ieri avevo fatto diciamo un check su un'altra macchina ma adesso sto inserendo appunto il codice device id che ho appena ottenuto clic su send così sto estrapolando ed è possibile poi comunque esportare da un'altra parte tutte le informazioni relative a questa macchina ubuntu che ho all'interno della lista vedo ad esempio le open ports vedo il vendor qual è vedo la status change c'è anche la possibilità ovviamente di estrapolare ben altre informazioni ma vi ricordo che la funzione che ho lanciato prima mi dava la possibilità che vado a rilanciare perché facciamo prima rilanciarla collection mi dà la possibilità di ottenere proprio tutta la lista degli strumenti che potenzialmente potrei utilizzare all'interno di quello che andrò a sviluppare per magari interfacciare domoz con un mio gestionale con un mio sistema di alerting quindi tutte queste tipologie di interrogazioni via ipi possono fare la differenza assolutamente sì ora non vado oltre su postman direi che possiamo andare magari all'interno di un altro argomento a gestire un altro argomento che è magari utile per molti di voi power bi connectors più la funzionalità di reportistica domoz ha creato uno strumento connettore per power bi e anche un report template che si può nel caso andare utilizzare ora la cosa che vi voglio fare assolutamente vedere al di là del report e della connessione del report è come si fa a collegare questo connector in power bi innanzitutto dovreste avere già power bi installato sulla vostra macchina io l'ho già preventivamente installato tra l'altro dal microsoft store quindi non è neanche un qualcosa di così deleterio in alternativa potete cercare la versione 64 bit desktop installarla direttamente con un msi lo lancio e vi faccio vedere che cosa dovete fare per montare e il connector il castor connector di domoz ora beh innanzitutto portatevi su github e scaricate il pacchetto ad hoc anche questo ve lo copio in collo nella chat dovrebbe arrivare anche questo il pacchetto è tutto quello che è qui compreso lì su code download zip né più né meno quello che è lo strumento non lo vado a scaricare ce l'ho già quindi mi interessa relativamente quello che dovrete andare a mettere in piedi come copia in colla mero copia in colla e sarà effettivamente per mettere in funzione il collettore connetto e questo file che si chiama domoz punto mezzo questo file lo dovrete copiare qui dentro una cartellina che si trova all'interno di questa di questo percorso c due punti slash users vostro nome utente cartella documenti di windows microsoft power bi desktop custom connectors domoz punto mes è qui dentro attenzione un connettore non diciamo non ufficiale microsoft e quindi per fare in modo che il power bi lo legga occorre necessariamente poi andare a mettere un flag e in un posto particolare vi farò vedere dove si trova quindi preventivamente copiatevi il file all'interno di questo percorso qua ho messo in piedi una piccola leggendina la norma è un c due punti users nome utente documents power bi desktop custom connetters la mia norma visto che sto utilizzando per salvaguardare la mia cartella documents il buon one drive è ovviamente una sottocartella di one drive anche questi tre elementi ve li vado copia incollare all'interno della chat ora una volta che avete il connettore attivo non so se riesco a replicare quello che ho fatto in precedenza per collegare il power bi perché una volta che vado a collegare questo domoz punto mes mi chiede le piai è l'indirizzo di accesso e le le piai possiamo provare a rifare il giro quindi magari io tolgo di mezzo richiudo power bi chiudi finestra taglia e incolla vediamo se si rompo tutto se faccio l'opera l'opera corretta attivo l'opera corretta alla prima ancora di copiare castro con netto magari avviate power bi il castro con netto ripeto non è ufficiale microsoft quindi necessita di una azione da parte vostra prima di poter essere messo in funzione o essere elencato nella lista di connectors quindi fate un clic su file portatevi all'interno di opzioni impostazioni opzioni è uno strumento potenzialmente insicuro domo stesso lo considerano elemento beta quindi portatevi in sezione sicurezza e permettete l'uso di estensione dati scelta non consigliata consente il caricamento di qualsiasi estensione senza convalido avviso fate ovviamente abbastanza attenzione a quello che che fate non mettete poi all'interno di quella cartella cose perché non sapete essere sicure diamo un ok ora siamo a posto vediamo se funziona al volo se o se rompo tutto sposto domos punto met in castro con netto file qua posso andare a richiedere allo strumento di recuperare dei dati qui ho varie fonti però io voglio dirgli di utilizzare uno strumento differente a breve mi dovrebbe caricare la voce relativa appunto ai vari connettori vediamo se c'è già domos eccolo quando non smetta connetti mi ha già connesso senza chiedermi le piai sì ok e mi dà la possibilità poi di andare a scegliere tutti gli elementi che abbiamo già visto prima all'interno del nostro carissimo postman e gestire quello che mi occorre implementando magari delle visualizzazioni particolari all'interno del report power bi c'è già un template già pronto non non lo utilizzo già da un po in realtà e si trova di quello che è fatto all'interno della della sezione preposta di github ritorno sulla route e va bene lo vado a riscaricare mostro nella cartella andiamo ad estrarlo e lo strumentino che vi menzionavo non è più non è più nemmeno no è questo è questo project no possibile mi ha fregato scusatemi eh download power bi domos main possibile allora facciamo un bel lavoro andiamo nuovamente sulla sezione domos preposta facciamo una magari una ricerca differente il center cerchiamo power bi questo è il bello della diretta non l'avevo ancora detto adesso lo dico per chi segue i miei qui club c'è sempre un bello della diretta eccolo qua power bi templates eccolo qua vabbè vi ho fatto vedere come collegare il collettore non vi ho potuto far vedere diciamo la sezione relativa all'inserimento della dell'API ma a seguito della della connessione vi verranno proprio richieste le chiavi API e ora ve lo faccio vedere qua qua c'è uno screenshot parlante vi comparirà di fatto questa voce vi verrà richiesto di andare a integrare la link relativa alle pubbliche API e poi l'API key questi due elementi né più né meno è la cosa che non sono riuscito a farvi vedere lasciamo stare un attimo questa cosa andiamo a scaricare il template che ci dovrebbe permettere di visualizzare tutto quello che ci occorre in base a quello che è stato pensato da domots ok mi sento sento parzialmente preso in giro perché è esattamente quello che che ho scaricato poco fa lo riscarichiamo questo punto allora beh ragazzi però se c'è la cartella templates io non vado sulla cartella templates posso andare avanti a lungo eccola qua quindi era già era già a posto semplicemente non sono entrato nella cartella corretta il connector è già attivo quindi via API mi mette in comunicazione con quello che sta succedendo all'altro lato e il report dovrebbe presentarmi a schermo tutto quello che mi occorre se le connessioni diciamo all'API e lavorano in maniera adeguata ora è un po' che non lo utilizzo quindi alzo un attimo le mani la risultante comunque dovrebbe essere tendenzialmente quella che è visionabile qua dentro quindi una mappa a disposizione con determinate informazioni e vari grafici e anche vari tab se ricordo bene la prima cosa che chiede è quanti giorni di quanti giorni è il diciamo il check che io devo eseguire quanti dati devo andare a caricare se lascio il tutto così com'è verrà tirata fuori soltanto l'ultima settimana clic su carica e tutto va per il verso giusto dovrei ottenere tutte le informazioni che mi servono questo è un esempio ragazzi non è nulla di così trascendentale è semplicemente è un metodo per farvi capire che è possibile dialogare con l'API attraverso varie forme ovviamente è fallito tutto appunto c'è il bello della diretta ma vi invito a farlo anche lato vostro qui si caricherà la mappa posso supporre adesso non si sta caricando nulla perché la query è andata a Ramengo ma magari qua ci ritornerò in un secondo tempo vi invito a fare comunque la mia stessa esperienza perché temo di aver magari spaccato tutto reimportando il file il file domos.mez dentro il custom connectors lascio a voi diciamo un check ulteriore comunque rimango a disposizione l'email supporto chiocciolah.it nel caso vi occorresse mettere in piedi anche questa questa cosa ora non ho finito il giro ma l'ho quasi finito in realtà perché domos l'API non è che le espone basta ha anche la possibilità di dialogare con altri strumenti quindi direi che posso ritornare sull'interfaccia di domos e farvi vedere che in sezione integration effettivamente c'è la possibilità di andare a introdurre altri elementi l'integrazione con allo PSA ad esempio avviene attraverso l'uso dell'API ma quali API? qua ci sono delle indicazioni ben chiare c'è la possibilità di andare a utilizzare dell'API o da un lato o dall'altro o creare proprio un'interazione di API non vado a illustrarvi la funzionalità dell'integrazione con Halo vi faccio vedere che per quello che è il contesto ITGlue ad esempio il discorso API è inverso quello che Domus necessita di fare per un'integrazione ad esempio con ITGlue è andare a inserire l'API key dell'altro prodotto grazie a una sinergia che si è creata tra Domus e i ragazzi dello sviluppo di ITGlue i ragazzi dello sviluppo di Domus e i ragazzi dello sviluppo di ITGlue in realtà le chiamate avvengono in entrambi i lati senza problemi di alcun tipo e si possono eseguire scritture dal lato o dall'altro semplicemente attraverso un click sul direction quindi se decido di far aggiornare il database di ITGlue da Domus lo posso fare posso fare anche l'opposto le API dialogano è una cosa che potreste addirittura mettere in piedi il lato vostro non spaventatevi è una cosa che comunque è fattibile ricordatevi ve l'ho fatto vedere prima non esistono soltanto i get esistono anche i put potete inserire nel database di Domus delle informazioni esistono anche delle possibilità di post quindi potete creare degli elementi potete addirittura arricchire il database di Domus con ulteriori field potete tirar fuori dal database di Domus ulteriori informazioni inventariali che all'interno della web non ci sono attraverso magari un booster pack quello che reputo abbastanza interessante è ad esempio questo get retrieve the list of application of all the devices belonging to the agent al momento questa è accessibile soltanto attraverso l'uso del booster pack però non è una cosa che vi da una marcia in meno vi da una marcia in più il booster pack per tanti motivi magari pensate di attivarlo se volete anche avere ad esempio una lista di software presenti all'interno delle macchine Windows tra l'altro a breve arriverà una bella novità in merito al monitoraggio delle macchine Windows based quindi restate sintonizzati dovrei aver terminato il giro vedo che ci sono già delle domande ok non c'è una domanda particolare che mi è arrivata ad esempio da Christian che mi scrive una bella sua considerazione il bello delle API che poi qualcuno le cambia e si rompe il mondo con una faccina sorridente effettivamente Christian bisogna sempre starci dietro pane per gli sviluppatori ragazzi io non sono uno sviluppatore vi ho fatto soltanto vedere come è possibile cercare di ottenere informazioni dalle API e con questa mia sessione spero di avervi stuzzicato più che altro la fantasia insomma se avete delle skill adatte allo sviluppo potreste magari se avete un vostro gestionale o un vostro sistema particolareggiato decidere di integrare quello che Domus già sta erogando e farlo diventare parte appunto del vostro sistema gestionale o perché no anche del vostro sistema di ticket management non che manchino le possibilità di integrazione tanto per capirci sempre nella sezione se la apro integrazione vi ricordo che non solo di API si lavora scusate adesso ci arrivo chiudo un po' di finestre integration potete integrare senza dover impazzire con le API poi non è impazzire perché se c'è già un qualche cosa di già pronto è un wizard guidato anche i sistemi di alerting attraverso magari Microsoft Teams Microsoft Teams e Webhook è molto molto più pratico non sto ad approfondire adesso mi pare di averne già avere già trattato la cosa potrei sbagliarmi ma così non fosse vi prego di perdonarmi se avete delle domande comunque a riguardo a riguardo Webhook scrivetemi è molto comoda come funziona allora ci sono altre domande ragazzi se non ci sono altre domande oltre a quella che una domanda non era quella di Christian sono a disposizione va bene anche scrivermi in sezione domande e risposte va tutto bene grazie oppure è stata una pessima esperienza mai più ovviamente la seconda spero che non avvenga ok vedo che non stanno arrivando delle domande do ancora qualche secondo se per caso qualcuno di voi le stava effettivamente scrivendo ecco ne approfitto qualora qualcuno di voi non si fosse ancora iscritto all'attività di questo pomeriggio vi invito a passare su www.h.it slash eventi e ad iscrivervi anche ad MSP Automation Day che si terrà questo pomeriggio vi vado a copia e incollare il link direttamente in chat e vi aspettiamo anche lì ok ragazzi direi che abbiamo terminato vi ringrazio sentitamente per l'attenzione che mi avete dimostrata e alla prossima che mi avete